Buongiorno a tutti, eccoci qui tornati nel parlare di storia diplomatica italiana, di relazioni internazionali del Regno del Sud nel periodo appunto della quasi cobelligeranza. Siamo arrivati al 18 ottobre e parliamo appunto del 18 ottobre del 1943, quando si stanno definendo alcune prospettive, alcune prospettive potremmo dire positive nell'evoluzione dei rapporti tra il governo di Brindisi e le autorità alleate, le autorità politico-militari, ma allo stesso tempo una serie di incognite che ancora un po' annebbiano la realtà, la prospettiva, le opportunità di indipendenza all'interno di quelle che potrebbero essere le relazioni appunto tra istituzioni politiche diplomatiche, politiche militari italiane e quelle alleate. E proprio per questo motivo io vi leggo subito, oggi vi leggerò due documenti e tra l'altro il secondo è interconnesso in qualche modo alla diretta di questa sera alle 21 con Giulio Poggiaroni di Italian Military Archives che ci intratterrà, faremo una conversazione sui accordi Cunningham e Decurten di qualche giorno prima, ovviamente stiamo parlando della fine di settembre, ma che in qualche modo si esplicano anche attraverso una serie di elementi successivi, di approssimazioni successive nell'analisi di come la Marina probabilmente è la forza armata tra le tre la più appetibile per lo sforzo militare alleato, per quella sinergia all'interno di uno sforzo sempre più ampio nel Mediterraneo, seppur come sappiamo il Mediterraneo rappresenta in quel momento specifico un fronte secondario, un fronte secondario perché gli alleati propendono, cercano in tutti i modi di deviare le attenzioni, gli sforzi, le energie verso quello che sarà il secondo fronte, quello che sarà la Normandia e ci sarà solo un ultimo colpo di coda, un colpo di coda un po' tirato, un po' sforzato da Churchill nello sbarco di Anzio che sarà comunque fallimentare per tutte le motivazioni che sappiamo, ora lo richiamiamo dopo con il secondo documento. Il primo è molto sintetico, datato sempre 18 ottobre, il primo segretario di legazione Venturini, un diplomatico che abbiamo avuto modo di conoscere qualche giorno fa per la sua precisione, anche per il suo coraggio nel spiegare, nell'evidenziare le difficoltà, le occasioni mancate, quelle in prospettiva che possono in qualche modo colmare le grandi lacune che esistono all'interno della filiera politico-diplomatica-militare del governo Badoglio, quindi analizzando una serie di prospettive che in qualche modo tendono a non solo rinfrancare, fare un po' serrare le fila della compagina italiana, ma anche funzionalmente per convincere gli alleati, per cercare di dimostrare agli alleati che finalmente si è voltato pagina, finalmente la guerra fascista è stata messa all'angolo, che è stata comunque superata una serie di difficoltà, seppur con tanti errori. Ebbene, Venturini scrive al capo della sezione politica della missione militare alleata e vediamo cosa scrive, cosa evidenzia. L'ambasciata d'Italia a Madrid ha telegrafato il 4 ottobre che un alto funzionario del Ministero degli Esteri spagnolo ha richiamato la sua attenzione sul fatto che la Spagna e altri vari stati neutrali si aspettano un ufficiale anglo-americano per una dichiarazione secondo la quale i governi alleati ritengono che il governo di sua maestà come l'unico legittimo in Italia. E questa è una cosa molto importante perché si va a inserire all'interno di quel discorso che facevamo che anche la Spagna franchista, probabilmente per opportunità ed interesse, ma ripeto, anche la Spagna franchista ha capito che l'unico, o sarebbe l'unico interlocutore italiano è quello di Brindisi, quello appoggiato agli anglo-americani, quindi in qualche modo cerca un sostegno, una conferma da parte degli anglo-americani nel dire, diciamo, ci mettete la faccia pure voi, garantite per l'Italia, l'Italia del Sud come soggetto internazionale. Quindi è interessante di come Venturini chieda una perurazione, chieda un supporto, chiede una sorta di garanzia agli alleati per convincere gli spagnoli che il governo di Badoglio è comunque l'unico soggetto internazionale accettabile all'interno dello sforzo bellico. Tale dichiarazione dovrebbe servire a chiarire la situazione e potrebbe essere utile nel caso in cui il governo Mussolini, con l'aiuto tedesco, dovesse esercitare pressioni per ottenere il riconoscimento degli stati neutrali. E questo è un altro elemento interessante perché appunto, visto che la concorrenza dall'altra parte è molto, molto avvantaggiata per una serie di motivi ideologici, per motivi anche di sudditanza, il fatto che la Repubblica Società italiana è sostanzialmente un stato fantoccio e non ha margine di manovra, è il mazzo in mano, ce l'hanno i tedeschi e quindi in qualche modo è più facile per loro essere considerati all'estero. Perché? Perché sono un appendice del Reich che in qualche modo che ancora con la propria prepotenza, con la propria spregiudicatezza offre una garanzia molto più ampia rispetto a quella in quel momento del governo del sud che è sempre a ricasco degli alleati, una serie di recriminazioni eccetera eccetera eccetera. Quindi è interessante di come Venturini giochi un po' in contropiede dicendo voi alleati dateci una mano perché in qualche modo possiamo avere un riscontro in termini anche di autorevolezza internazionale grazie all'indirizzo di Madrid, cosa ovviamente non scontata. Ma sempre il 18 ottobre da Taranto e qui arriviamo al discorso che faremo questa sera, ripeto, con Giulio, il ministro della Marina De Courten al capo del governo Badoglio. Un promemoria e vediamo come in questo senso De Courten faccio una sorta di ulteriore sintesi, ulteriore punto della situazione, lo stato dell'arte della realtà della Marina all'interno ovviamente della compagine italiana e ovviamente anche della compagine della cobelligeranza. Nelle lettere 162 e 175 rispettivamente del 12 e del 14 ottobre che vostra eccellenza ha diretto al generale Eisenhower che abbiamo letto nei giorni scorsi, quindi andatela a recuperare nei video precedenti, sono tracciate le linee di un futuro programma militare italiano e sono elencati gli effetti prodotti dal nuovo atteggiamento dell'Italia dall'armistizio in poi, secondo elementi forniti allo stato maggiore generale, quindi mette in causa anche Ambrosio. Trattandosi di comunicazioni ufficiali di importanza sostanziale che eserciteranno grande influenza sugli ulteriori sviluppi della situazione politica e militare e poiché lo stato maggiore generale non ha richiesto la mia collaborazione nello studio e nell'elaborazione dei dati militari da comunicare al comandante in capo delle forze angloamericane del Mediterraneo, ho ritenuto mio dovere esaminare questi documenti dal punto di vista della mia sfera di competenza ed è interessante come il rapporto tra De Courten, che in quel momento specifico rappresenta l'alto comando politico ma anche l'alto comando tecnico della reggia marina, in qualche modo si è in competizione rispetto a Ambrosio che non ha un ruolo politico ma ha un ruolo solo tecnico ma sovrastante alle tre forze armate, quindi in qualche modo si va a replicare con quelle realtà dell'epoca Badoglio, ma anche l'epoca Cavallero in cui c'era il capo di stato maggiore della forza armata aeronautica marina che era al contempo anche sottosegretario dello stesso ministero e quindi in qualche modo era indipendente sotto lato politico seppur dipendente sul lato tecnico, quindi è una situazione confliggente, una situazione ambigua che si va anche a ripetere durante il governo Badoglio e quindi in qualche modo è un'anomalia che non si è riusciti a scrollare di dosso un po' un retaggio del passato regime, ma comunque De Courten ci tiene a esprimere la propria preminenza seppur solo sul lato politico e quindi in qualche modo fa pesare di fronte al capo del governo in sede governativa, in sede di ministero, il suo peso specifico. Quindi ho rilevato che A. Nella parte che si riferisce al futuro programma militare non è fatto cenno delle necessità e delle possibilità del reggio esercito e nulla è detto relativamente alla reggia marina. Le caratteristiche della guerra condotta dagli angloamericani fanno sì che il contributo delle nostre navi alle operazioni belliche presenti e future in Mediterraneo e negli oceani sia in grado di esercitare una sensibile influenza che nel nostro stesso interesse dovrà essere valorizzata sin da ora in ogni occasione. Tale contributo implica ovviamente necessità nel campo del materiale e del personale che avrebbero dovuto essere accennate e invece sono state passate sotto silenzio. Punto B. Nella elencazione delle ripercussioni del mutato atteggiamento italiano il sostanziale appoggio della marina è messo in scarsa luce. Tale apporto può così riassumersi. Sottopunto. Lo sbarco degli angloamericani a Salerno non ha avuto alcuna opposizione dal mare mentre l'intervento della flotta predisposto in via di progressiva attuazione avrebbe potuto avere ripercussioni gravissime. Su questo punto visto e considerato che durante lo sbarco ancora non c'era una cognizione di causa, una cognizione ancora precisa di quello che sarebbe stato, diciamo che in questo caso De Courten è molto favorevole, parla un proprio domo suo, però in qualche modo fa bene nell'esprimere la propria consistenza. Dice potevamo mettere i bastoni fra le ruote o potevamo comunque in qualche modo creare una serie di circostanze che non ci sono state e quindi in qualche modo ha avuto un esito seppur temporaneo, però in qualche modo ha avuto il suo successo finale. Secondo sottopunto, la disciplinata esecuzione delle claus di armistizio da parte della flotta, oltre a avere riflessi morali di vastissima portata sullo spirito della popolazione italiana, ha permesso agli angloamericani la esecuzione senza contrasto degli sbarchi nel Golfo di Taranto e lungo le coste orientali delle Puglie, che hanno avuto tanto importanza nel quadro della manovra strategica alleata nell'Italia meridionale. Quindi diciamo che si prende altri meriti. Altro punto, la diretta partecipazione di reparti navali italiani al servizio di scorta con voglie ad operazioni sussidiarie di sbarco ischia procida, ad azioni dirette a facilitare il ripristino dei porti distrutti sommergibili italiani a Napoli, all'invio a destinazione di reparti informativi, ha costituito un diretto e sostanziale contributo alla condotta di guerra alleata. Altro punto, l'azione delle siluranti e del naviglio mercantile italiano, accompagnata da sensibili perdite, ha consentito di riportare nelle Puglie, dalle sponde orientali dell'Adriatico, circa 25.000 soldati, a tutto vantaggio della partecipazione delle forze armali italiane alla guerra contro la Germania. Punto finale, è già stato consegnato al Pool del Nord Africa Shipping Board, naviglio mercantile del dislocamento complessivo di circa 150.000 tonnellate, detto naviglio è stato già immesso nel traffico a vantaggio degli alleati. Quindi in qualche modo reclama una serie di benemerenze riconosciute anche dagli alleati. come chiusa, ritengo che, data la mentalità degli americani e degli inglesi, la quale non è continentale ma nettamente imperiale ed oceanica, chiare indicazioni relative al contributo della Marina avrebbero avuto una particolare efficacia e avrebbero quindi aggiunto a forza alle argomentazioni di vostra eccellenza. Gli angloamericani sono sempre molto sensibili a tutto quanto a attinenza con il mare e con le operazioni navale. Quindi non è tanto una insensibilità nei confronti della reggia marina, che già di per sé sarebbe umiliante per la forza armata navale italiana, ma avete anche mancato di essere particolarmente sensibili nei confronti degli angloamericani, che hanno sempre a cuore la faccenda, il fronte navale della guerra. In estrema sintesi mi sembra quindi indispensabile che in casi analoghi lo Stato Maggiore Generale, quindi fa un po' tira le orecchie a Ambrosio, prospetti gli elementi di fatto da un punto di vista generale e non particolaristico, in modo che siano opportunamente messi in valori nel supremo interesse nazionale tutti i dati suscettibili di rafforzare le nostre tesi e di influenzare in senso a noi favorevoli gli angloamericani. Quindi in estrema sintesi De Courten tira le orecchie ad Ambrosio accusandolo di particolarismo e in questo però non si può fare neanche un grande torta ad Ambrosio, visto il consigliato che per una questione di tradizione, passando il testimone Badoglio, Cavallero, Ambrosio, tre piemontesi, tre esponenti delle forze armate dell'esercito, un artigliere, un fante e un cavaliere che non avevano tutta questa competenza, che sì si erano trovati a un certo momento della loro vita a essere i comandanti supremi, ad essere coloro che in qualche modo non avrebbero dovuto coordinare, avrebbero dovuto sviluppare delle teorie integrate in cui la marina e l'aeronautica potevano in qualche modo essere un valore aggiunto e non soltanto sussidiario alle attività dell'esercito, ebbene però il punto è questo, che i generali vengono sempre dall'esercito e di conseguenza hanno una loro visione principalmente terrestre e che ovviamente, tra l'altro lo diceva Badoglio, che fino a tre anni prima ricopriva quell'incarico quindi in qualche modo non è che stia sfondando una porta aperta, lo stesso Badoglio aveva mille riserve, mille pregiudizie, mille inconsistenze potremmo dire, non è che si poneva troppo il problema delle forze armate di mare e di aria, perché era sostanzialmente un prealpino un prealpino in senso tecnico del geografico, che poco si curava dell'elemento proiettivo dell'elemento aeronavare, di una prospettiva che egli neanche capiva, neanche si poneva il problema, egli partiva al presupposto di ancora l'artiglieria che spara, la fanteria, la regina delle battaglie, concetti vecchi di 30-40 anni, ovviamente capite, ma sono anche di più e non capite che in questo senso De Curtin deve sudare sette camicie per far capire a Badoglio e quindi anche ad Ambrosio che bisogna enfatizzare gli elementi positivi, i meriti, le prospettive, le opportunità che la marina possa in qualche modo essere l'elemento quasi la pietra angolare dei rapporti tra italiani e anglo-americani, questo è un po' forse esagerato, però diciamo che non sbaglia perché c'è un minore interesse, quasi una trascuratezza potremmo dire, della componente della prospettiva navale che fino a prova contraria è in quel momento quella più accettata, quella più considerata dagli anglo-americani, non fosse altro perché appunto gli serve perché loro sono sicuramente più ferrate, più sicuri sotto l'aspetto territoriale, non fosse altro anche perché l'aspetto territoriale interessa meno, la penisola è diventata un fronte marginale, quindi quello che interessa sono i collegamenti, le scorte, le linee di rifornimento, questo è quello che conta, in qualche modo la flotta italiana gli può essere utile nel merranio ma anche fuori, come andremo a evidenziare questa sera con Giulio, quindi per tutti coloro che sono interessati a questi temi io vi invito già da adesso, dopo lo ricorderò, stasera, ma già l'abbiamo già detto però, non è la prima volta ma l'ho ripetito, ripetita Juventus, nel senso che stasera alle 21 con Giulio Poggiaroni dei Italian Militar Archives parleremo degli accordi Cunningham-De Courten che appunto diventano un elemento interessante, uno snodo fondamentale per andare a capire quello che è successo dopo l'8 settembre ma in prospettiva verso una cobelligeranza sempre più concreta, sempre meno meno formale e più sostanziale, un discorso molto ampio che esamineremo nel dettaglio per meglio capire anche gli equilibri interni alla compagine italiana che sappiamo non essere affatto scontata sotto tanti punti di vista. Detto questo, come al solito, io vi invito a mettere mi piace, iscrivetevi al canale e stasera alle 21 con Giulio parleremo degli accordi Cunningham-De Courten, da domani invece parleremo di altri discorsi sempre legati a rapporti diplomati, chissà, vedremo domani di cosa parleremo, ancora non lo so, ne parleremo domani. Ciao, a stasera!